Il fatto che sia la 34esima edizione consecutiva, ovvero non abbiamo perso nemmeno un anno, nemmeno lo scorso anno, lo sforzo organizzativo è importante, ma ci siamo e il festival sarà veramente bellissimo. Sarà molto bella con artisti altamente selezionati, provenienti da Europa e Italia, addirittura sono ovviamente tamponati, vaccinati, ma il livello artistico è veramente alto. Tutti, anche quelli che normalmente non frequentano i luoghi della cultura, hanno capito che cos'è il paese, quante triste, con i cinema chiusi, i teatri chiusi, senza musica nelle piazze, nelle strade, che c'è davvero una voglia di vivere, si può fare in modo compatibile con ancora le esigenze di sicurezza e di prevenzione che ci sono. Quindi anche da questo punto di vista il basket di quest'anno sarà un segnale della ripartenza. Confido nel fatto che dopo Ferragosto non ci siano ulteriori chiusure, come lo scorso anno, ma siamo entro i mille all'aperto, distanziati con tutte le procedure per attuare un festival in massima sicurezza. Tutti i giorni sono belli e sono ricchi di eventi e non ce n'è uno in particolare. Lo scorso anno c'è stata Gianna Nannini e quindi forse riusciremo a organizzare una sorpresa anche quest'anno, ma è ancora una sorpresa. Per il resto, tutti i giorni, dalle 19 alle 24, dentro al Parco Massari, quindi contingentati, ma con la stessa atmosfera del festival che conosciamo in centro storico. Il Parco è una soluzione buona per vari motivi, uno perché si è all'aperto in mezzo alla natura, due perché è già ricintato, quindi si riescono a rispettare ovviamente anche i numeri di persone che possono accedere al Parco. È ovvio che non vediamo l'ora di ritornare in centro e a tornare al Basker Festival di prima. L'alternativa è non fare il Basker Festival. Una volta che si potrà, di riportarlo nelle vie del centro, anche per quello che riguarda l'attività commerciale e tutto il resto. Quest'anno va così, sono sicuro che a breve potremo festeggiare tutti insieme e socializzare tutti insieme. Oggi finalmente non siamo ancora fuori dalla situazione di criticità. La presenza del ministro Dario Franceschini ci conforta, ministro per la cultura, sottolineerei il fatto che sul Recovery Fund la cultura, così come sta scritto, proprio sulla programmazione, quindi sui vari fascicoli che arrivano, non è solamente un elemento importante per l'attrattiva turistica, ma è un elemento fondamentale per lo stare insieme. Tanti anni sono passati da un episodio per cui nell'amministrazione di allora si vide che mandavano via i musicisti a strada, che arrivavano a Ferrara, come capitava in altre città. Da quell'episodio nacque l'idea di Stefano, su cui abbiamo lavorato e partito, è diventato un pezzo importante della storia della città, è cresciuto nel tempo, è cresciuto di qualità, di dimensioni. Io avevo il piacere di avere Dario Franceschini, allora capogruppo del Consiglio Comunale, che mi chiamò e mi disse, vieni che c'è Soffritti che ti vuole parlare, presentando un progetto. Qual è stato il colpo di fortuna più che di genio? Perché io avevo presentato un progetto così, che Soffritti era tornato dagli Stati Uniti, da New York, attraversò un parco, si chiama Washington Square Park, e vide i gruppi che suonavano. Lui aveva visto cosa voleva dire il gruppo di strada e il pubblico intorno, facendone un incambio in culturale e turistico. Era particolarmente orgogliosa di essere ancora una volta il main partner di una manifestazione come i Baskers, per il quale abbiamo studiato anche delle azioni ad hoc, quindi porteremo la nostra sorgente urbana per chi avrà sete, porteremo un cassonetto trasparente per far vedere quanti e quali errori si fanno nella raccolta differenziata e poi parteciperemo ai laboratori didattici sulla raccolta differenziata e poi questa grande festa dedicata alle api che rappresentano il segno della biodiversità pulita.